Splendido veramente il colpo d'occhio dell'Olimpico arbitra il signor Cesari Una battuta chiaramente anche con Massimo Chiesa ma un secondo se poi le nostre telecamere vanno anche sulla curva laziale Adesso è meraviglioso lo spettacolo che sta offrendo la curva nord che è tutta bianco celeste con la scritta 1900 la data di fondazione E' un Maxi Gagliardetto che prende tutta la curva è uno spettacolo fantastico questi derby solitamente quelle delle tifoserie finiscono in parità Massimo per non perdere proprio l'inerzia di questa spinta emotiva che ci stanno regalando le due tifoserie prima ancora che le due squadre Un derby arbitra Cesari cinquantottesima partita in Serie A per lui tu mi dicevi prima non hai mai arbitrato un derby in Serie A proviamo a capire che cosa significa arbitrare Roma Lazio Arbitrare Roma Lazio penso sia un traguardo da raggiungere il sogno di qualsiasi arbitro Cesari questa sera debutta in questo derby ha già fatto il derby di Milano direi una garanzia per questa sera E sicuramente l'obiettivo principale di qualsiasi arbitro è quello di arbitrare un derby come questo in questa cornice con questo spettacolo in questa serata E' veramente incomparabile lo spettacolo che stanno regalando le tifoserie di Roma e Lazio Ci sono molti derby importanti, tanti derby in Italia, quello di Roma è sicuramente vissuto alla massima potenza dalle tifoserie, ripeto vissuto un anno Dariel Fonseca lui ha ritrovato il gol nella partita di Coppa contro il Neuchatel Ci siamo ritrovati ha detto io e Balbo proprio in attesa del derby, alla vigilia di questo derby Beppe Signori non è al massimo della condizione però lui sarà sicuramente l'alfiere dell'attacco bianco celeste unitamente ad Alain Boxic C'è qualche numero di questa sfida nel passato, ci sono 134 precedenti, 47 sono le vittorie della Roma, 49 pareggi, 36 vittorie della Lazio Che ha segnato 120 gol contro i 154 della Roma che batterà il calcio d'avvio di questo confronto Ricordo che la Roma in casa, la concentrazione di Mazzone, la Roma quando ha giocato in casa nelle ultime edizioni non ha avuto vita facile L'ultima vittoria addirittura datata 23 marzo del 1977 fu un 1-0 firmato da Bruno Conti Il primo derby a Roma si è giocato l'8 dicembre del 1929, giocava in casa la Lazio e vinse la Roma 1-0 con gol di Volchi La prima vittoria della Lazio in un derby nel 1931, 2-1 firmato De Maria e Castelli Per quanto concerne i record, le presenze, il record di presenze rispetta Guido Masetti, ex portiere della Roma con 22 Così come il maggior numero di gol del brasiliano Dino da Costa, romanista, che di gol ne ha segnati 9 Tutto è pronto adesso per l'inizio, sarà la Roma a toccare il primo pallone dell'incontro Balbo e Fonseca si scambiano il pallone servendo Giannini La febbre qui all'Olimpico, è altissima Prova il colpo di Tacco Carboni, non riesce Ma sul pallone c'è Lanna Petruzzi Tocco corto di Di Biagio Lanna ancora in avanti, statuto Scambiano ancora i due Di Biagio Pressing soltanto accennato dalla Lazio in queste prime battute Primo lancio, primo intervento, comodo peraltro Di Luca Marcheggiani Che ha già rinviato Prova Esposito Assente nelle file della Lazio Dal match di Coppa Italia contro il Chievo a Verona Fuser Winter Si allarga e riceve Favalli Ancora Aaron Winter Chiamano il fuorigioco al Daera Parte invece il cross di Favalli Lungo sul secondo palo, troppo Riesce a raccoglierlo Fuser Tiene in campo il pallone, punta Carboni Finta a rientrare, mette al centro Cervone, senza problemi Diego Fuser, lui ha giocato anche i derby di Torino e di Milano E proprio con il Milan ha vinto tantissimo nel corso della sua carriera Uno scudetto, Coppa Intercontinentale, Coppa Campioni e Supercoppa Europea Peppe Giannini, il principe recordman chiaramente dei giocatori in campo di presenza nei derby con 14 E anche il giocatore della Roma che nel sfide stracittadine Quello in campo chiaramente ha segnato più gol con due Una sponda laziale Direi quasi naturalmente Peppe Signori con i gol Ha segnato i due Con l'ultimo, quello su rigore, della vittoria Nel passato campionato Di Biagio Con calma Petruzzi per statuto Carboni Si propone Balbo Statuto anticipato da Di Matteo Va giù Con il calcio di punizione in favore della Lazio Fallo su Di Matteo Stato tutto in ritardo, ha allungato la gamba Entrambi nazionali di Sacchi Fallo su esposito Ha commesso a Medeo Carboni Il turbo della fascia sinistra della Roma Giocatore di dinamismo, classe ma anche di tanta esperienza Fate Fusera a seguire E' come a Boxic chiuso Due volte da Lanna Con Petruzzi Giannini Spazio Carboni E allora avanza Si allarga però troppo il pallone Regalando la rimessa laterale Alla Lazio, già effettuata Esposito Ancora Giannini, pressato da Di Matteo In maniera fallosa Fuori gioco sul calcio di punizione battuto da Giannini Fonseca Terminato oltre la linea dei difensori graziali Che dovrebbero applicare con continuità la trappola dell'offside Ancora Giannini nel vivo del gioco Che mette fallo su Winter Ha recuperato il pallone Cappioli Ma Cesari L'aveva già bloccato Quattro minuti sul cronometro Sempre 0-0 Tra Roma e Lazio In questo Derby numero 135 Della capitale Fattuto di Matteo per Winter Chiuso in scivolata Perfetto il tempismo di Cappioli Ora Di Biagio Prova dalla parte opposta Taglia il campo Trova Balbo Lo affronta Fuser Sale anche Aldair Molto corta la Lazio Elude l'offside della Roma Cappioli In scivolata Favalli Gli concede la rimessa laterale in zona d'attacco Con le mani lo stesso Cappioli Fattuto un tiro cross Fuori dallo specchio della porta Nessun problema per Luca Marcheggiani Si è fatto sentire in settimana Con delle dichiarazioni Neanche poi troppo pacate Direi estremamente chiare Su quello che è l'andamento stagionale della Lazio E quelli che sono i problemi Che può vivere un portiere Della classe di Luca Marcheggiani Con uno schieramento difensivo E quantomeno rischioso Ha detto Lo ripeto Essere il portiere della Lazio In questi frangenti Molti frangenti Può non essere divertente Ancora statuto Giannini Girabala con calma la Roma Il lancio di Di Piaggio Sopre Ciamotte Ancora ben esposto L'anticipo secco di Lanna Negro In presenza di Nesta Che Pavalli assume La posizione di centrale C'è una grande possibilità di scambio di ruoli C'è una fluidità I difensori della Lazio Sia Ciamotte che Nesta che Negro Possano ricoprire almeno Tre se non quattro Ruoli difensivi Il Trefavalli dire Più orientato Con Laterale sinistro L'anticipo secco di Lanna La caccia del pallone esposito E Nesta che è lontana Buon anticipo di Lanna Bolo di Fuserra E una profondità Ma Bocic Ha terminato in fuorigioco Direi Assolutamente Impugnabile La decisione Cioè era Un paio di metri avanti Bocic Battuta rapidamente La punizione Proprio da Marco Lanna Per Gennini Si lamentava Per questa trattenuta Diego Fuserra Prima ancora Della chiamata Del fuorigioco Favalli Controlla E poi rinvia Disturbato Aldair E Roma Che ricomincia tutto Nuovamente Da Cervone Individuato come uno degli elementi Più in forma Di questa Roma Giovanni Cervone Cercato di portare In settimana La sua grande grinta Se non ce ne fosse bisogno Prima di un derby Nello spogliatoio Pallo Mediano di Fonseca E caccio di punizione In favore della Roma Contatto tra Ciamotto E Fonseca Andato a cercare il pallone Ma trova l'avversario Ciamotto Calcio di punizione Distanza notevole Direi quasi impossibile Anche per la potenza Del tiro di Di Biagio Spone con cura Il muro Marcheggiani C'è pallone C'è Fonseca Anche Giannini Prova comunque la Roma Pallone che incoccia nel muro E non riesce Marcheggiani Ad evitare il calcio D'angolo Corretta la chiamata Del guardalena Anche in questo caso Direi di sì Primo corner Della gara In favore Della Roma Quando siamo Quasi al nono minuto Del primo tempo Il punteggio Sempre di 0-0 Della bannerina Va Fonseca E lui che va al cross Nel mucchio Ha trovato Ciamotto Carboni Intervento in scivolata Di Bocic In copertura Intervento regolare Providenziale Anche per il tempismo Del croato Con le mani Carboni Cerca Trova Giannini Tra tre avversari Appoggia dietro Lanna Mette al centro Carboni Il golo Gira Fonseca Cercava Balbo Rontanato Nesta Poi Fuser L'anticipa di Biago Più reattiva la Roma In queste prime battute Lanna Petruzzi Si scalda la sud Giannini Incesso di confidenza Di statuto Rimedia Lanna Poi Giannini Prova dalla parte opposta Aldair Fonseca In seguito Da Ciamotto Non liberarsene Con un paio di finte Finisce a terra L'uruguaiano Probabilmente Cesari Comanda il calcio Di punizione In favore della Roma Anche se L'intervento in scivolata Di Ciamotto È nettamente sul pallone Almeno il secondo Massimo Dimmi Fulvio Ecco Traspare dai volti Delle due squadre Che c'è grandissima tensione Infatti vedi la Lazio Che solitamente Nei primi minuti Aggredisce l'avversario È bloccata Nella propria metà campo E soprattutto in difesa Evidentemente Le esperienze negative Come quella di Domenica Contra l'Udinese Insegnano L'apertura di Lanna Allontana Pinter Di Biagio Aldair In profondità Contra sulla fascia Ma troppo Pallone che termina Direttamente in favore Latorale Fulvio Io volevo coinvolgerti ancora Perché mi sembra Che la Lazio Pur senza rinnegare Il 4-3-3 Spesso arretra molto La posizione di Esposito Facendo quasi Intravedere dalla tribuna Un 4-4-2 Ecco benissimo Hai detto bene Perché la scelta di Esposito Al posto di Rambaudi È proprio fatta Per questo motivo Esposito è un giocatore Che Nesta È molto bloccato Non spinge molto Addirittura Fa la diagonale Gioca quasi in linea Con Negro Mentre Esposito Fa il quinto uomo Per cui a volte Sono quasi in 5 Che giocano Giocano in linea Perché Carbone È aspettato da Esposito Un curioso episodio Massimo Se mi consenti Mazzone Evidentemente La mia persona Ispira fiducia Perché rivolgendosi Al sottoscritto Tu sai che le squadre Sono in silenzio stampa Però Mazzone Si è rivolto a me Dicendomi Dillo che giocano A palla lunga Tipo In modo oratoriale Diciamo La rimessa intanto Di Carboni Il cross di Fonseca Gianni raccoglie il pallone Quando Ha già avvalcato La linea bianca I minuti sono 12 Nel primo tempo All'Olimpico Sempre 0-0 Tra Roma e Lazio Grande mobilità Di Daniel Fonseca In questi primi minuti Quasi a fugare Qualsiasi dubbio Sulla Ormai ritrovata È stata tenuta Non solo morale Ma anche fisica Da parte dei due attaccati Della Roma Anticipo di Nesta Fuser È rimasto colpito Nesta Cerca di richiamare L'attenzione dell'arbitro Lancia in profondità Prova a defendere La Lazio Boxic Il cross è deviato Sarà calcio d'angolo Ci sarà anche l'opportunità Per Soccorrere Nesta Mi sembra però Un problema gravissimo Primo calcio d'angolo Anche per la Lazio La banderina Signori Battuta tagliata Fuori gioco Negro Colto in offside Da Cesari Anche in questo caso Mi sembra non ci fossero dubbi Sulla chiamata Non ci sono dubbi Sulla chiamata Ho avuto la sensazione Che fosse più boxic Ancora più a retrat Ancora più in posizione Di fuori gioco Però in quel caso Non si può parlare Assolutamente Di ininfluenza Avanza Lanna Su il lancio Troppo lungo però Per Fonseca Butta via il pallone La Lazio Malamente questa volta Connesta Mi regala La rimessa laterale Alla Roma Già effettuata Statuto Carboni Cross C'è un rimpallo Ma anche una spinta Precedente Quindi c'è il calcio di punizione In favore della Lazio Lazio che Ha portato Signori In parte destra Vedremo se e quanto sarà definitiva Questa variazione di Zeeman Intanto Winter recupera il pallone Lo offre ancora Per l'avanzata di Nesta Girato al volo Boxic Con facile preda Della retroguardia Della Roma Spostato quindi Esposito Dalla parte opposta Boxic Centrale E Signori Andiamo sulla fascia destra Ancora Fonseca Si propone Cappioli Il tocco invece Era centrale Un pochino esposito Recupera il pallone Notici a Mott Su il cross Cervone di pugno Anticipa bene Boxic Poi Cappioli Ottima scelta di tempo Di Giovanni Cervone Gennini Abbiamo messo ancora per la Roma Abbiamo superato Il primo quarto d'ora di gioco Tutteggio sempre di 0-0 Conferma anche grafica Del fuorigioco precedente C'è un'altra rimessa laterale Sempre in zona d'attacco Sempre in favore della Roma L'affettuata Gennini Aldair Lui che prova il lancio Balbo Anticipa Negro Pavalli Si rifugge ancora in pallo laterale E' una lazio meno aggressiva Di quanto invece Non era lecito attendersi Soprattutto Meno di quanto Non sperasse Credo lo stesso Zeman Statuto Di viaggio Però l'assist volante Non gli riesce Si ricomincia tutto da Cervone Alen Boxic Alla ricerca di un gol Nel derby Per conquistare Sembra ce ne fosse bisogno Definitivamente Il tifoso laziale Lanna Di piatto In profondità Balbo Non riesce a girarsi Glielo impedisce Negro Un po' di Matteo Di prima Boxic Signori Restituito Alla fascia sinistra Pallonetto Il suo Ha visto Cervone Leggermente avanzato Ha cercato Una soluzione personale Spettacolare Beppe Signori Grande goleador Grande simbolo Di questa Lazio Rinata Nell'era Cragnotti Evita Il tavolo Tra le Carboni Mette a terra Trollone Nesta Ha spinto Statuto La punizione In favore della Lazio Continua a sbracciarsi Mazzone Sempre a bordo campo Non perde Il suo aplomb Zeman Fuser Per Negro Gira palla In difesa La Lazio Poi affonda Ciamotte Resiste A Di Biaggio Si fa vedere Fuser Largo Porta troppo Palla Ciamotte La recupera Comunque Sposito Poi interviene Cesari Sanzionare L'intervento Precedente Ciamotte Che ha allungato Una gamba Faccio di punizione Già battuto Dalla Roma Di Biaggio Porta spasso Il pallone Statuto Attaccato Da Fuser Ha aumentato Leggermente Il pressing Adesso La Lazio Statuto Ascivolata L'ha fermato Nesta L'intervento Che a me Non mi viene direte È parso regolare Punizione Già battuta Comunque Giannini Il lancio Cercava Cappioli Ha deviato Winter E si accontenta Poi della rimessa Laterale Cappioli Roma che resta In zona d'attacco Cerca di serrare I tempi Massimiliano Cappioli C'è una spinta In questo caso Cesari non interviene Bocic È molto solo Però lì davanti Lo insegue Aldaire Lo chiude Petruzzi Va Bocic Riesce a spingere E conquista La rimessa laterale In zona d'attacco Massimo Fulvio Ma certamente Era una Lazio Che non ci aspettavamo Addirittura Direi uno Zeeman Italianista Perché Sì è vero Che sono quattro Difensori in linea Però Addirittura Signori Attenzione a Winter Scusa Fulvio Il cross Non c'è Perché manca Il pallone Al momento del cross Aaron Winter Si lamenta per una spinta Fulvio Puoi proseguire Io ricorderei che però Con questa tattica La Lazio ha vinto L'ultimo derby Probabilmente Memor appunto Di quella tattica lì Zeeman Però è difficile Assista una partita In realtà In realtà poi ha seguito Anche i consigli Di Cragniotti Penso proprio di sì Sono 20 minuti Nel corso del primo tempo Il punteggio sempre di 0-0 Tra Roma e Lazio Adesso è perfetto Lo schieramento Della Roma 3-5-2 Mentre indietreggia Esposito E va a riportarsi Su un 4-4-2 Per la Lazio Ne sta Non riesce Esposito A servire Fuser Soprimesso Cardoni Poi Giannini Cappioli Molto attivo Anche per Fonseca Anche lui si muove molto Lo ferma Favalli Non evita però La rimessa laterale Ha qualche problema In più invece A farsi vedere Balbo In questo avvio Lasciato Come punto Di riferimento centrale Più individuabile Da parte dei Due difensori Della Lazio In questo momento Non gli stanno concedendo spazio Petruzzi Ancora Giannini Di Biagio Spenda di Balbo Chiuso di Biagio Ciò si rivede ancora un fallo Poi non sono molto d'accordo Magari aspettiamo il conforto Delle immagini Può essere che sbagli Ma mi è sembrato Un intervento sul pallone In anticipo Eccolo qua Direi che abbiamo ragione noi Una volta tanto Distanza notevolissima Per questo calcio di punizione Di Biagio Sembra voler tentare Ancora La botta diretta Sul pallone sempre Fonseca Anche Giannini Che si allontana Statuto a disturbare la barriera Provano invece L'assist in area Giocatori della Roma Pallone che si impenna E poi Marchigiani Di pugno Lo allontana Lanna qualche brivido Nella curva nord Giannini Che allontana il pallone E che continua A non costruire gioco Giannini Statuto Adesso leggermente più deciso Il pressing Ma con un'inquadratura Dall'alto Potremmo veramente Renderci conto Come gli attaccanti Della Lazio Sono dall'inizio Dai primi 23 minuti Di questa partita In realtà due Bocic E i signori Giannini Balbo Punta la porta Balbo Si allarga Balbo Palla sul destro Prova Marchigiani Non ha problemi Non ha colpito benissimo Abel Balbo Giannini Ancora la Roma Allarga Ma troppo Cercando Fonseca La rimessa In favore Gli abilotti Bianco-Celesti Nessun problema Nel giro precedente Per Marchigiani Sempre sicuro Nella presa Il suo giù Fuser Altro calcio Di punizione In favore Della Lazio In questo caso È la Lazio Che attacca E da questa immagine Vediamo un esposito Più avanzato Rispetto A quanto non faccia Invece Solitamente Almeno dall'inizio Di questa gara Ne sta Lo chiude statuto Guardanini dice Che la rimessa È in favore Della Lazio Ancora Nesta Su il cross Signori Stato di mettere Al volo Al centro Ha trovato Aldair Poi Lanna Quindi Giannini Si allarga Carboni Scatta anche Fonseca Tiene palla Giannini Vede l'arrivo Di Cappioli Al centro Va Balbo Sbaglia però Cappioli E Di Matteo Può allontanare Segnalato L'offside Sul rinvio Giustamente No È segnalato Il fuorigioco Di Signori Che stava rientrando Una volta Che si è reso conto Che il pallone Poteva capitare Nella sua zona Giusta Questa segnalazione Di De Santis Funzione battuta A favore di Lanna Poi statuto Carboni Bel numero Il suo Taglia fuori Esposito Chiede ancora Triangolo Fonseca In area Fonseca Prova da terra Non riesce A deviare il pallone Reclama Arriba prima di lui Giannini Carboni Prova ad andare ancora In profondità Ma trova Ciamotto Statuto Si allunga il pallone Nel controllo Poi commette fallo Contrativo di recuperarlo Si spiega Confuser È caduto da solo È caduto da solo Direi che anche questa volta Le immagini ci confortano In quieto Mazzone Di Lanna Di Lanna L'ultima deviazione La rimessa In favore della Lazio Primo piano per Marco Lanna Sta vivendo forse la sua miglior stagione Con la maglia giallorossa Massimo Fulvio È un dialogo continuo ormai Tra me e Mazzone Mazzone prima si è rivolto A me dicendomi Se puoi dargli un auricolare Per noi non c'è problema No no Guarda che veramente Prima Quando non so C'è stato Ciamotto Che ha fatto Chiaramente una respinta Viva il parco Digglielo che quando hanno vinto Proprio passa per fenomeno Chiaramente non posso dire A chi era rivolta questa frase Però Attenzione intanto Il pallonetto su Marchegiani E il pallone Scivola sul fondo Balbo Occasione incredibile per la Roma Abel Balbo È riuscito a lobbare Marchegiani Buco clamoroso Di Ciamotto Prontissimo ad inserirsi Balbo Riesce a superare Marchegiani in uscita Pallone che esce di un nulla Ma incredibile Distrazione difensiva Di Ciamotto In questo caso L'ennesima della Lazio E come non ripensare Alle parole di Marchegiani In settimana Favalli Vinter Non riesce a tenere in campo Il pallone La rimessa è per la Roma Rischio grossissimo Corso Dalla Lazio Buco inaccettabile Francamente Di Ciamotto E Balbo È pronto A lobbare Marchegiani Non riesce però A trovare lo specchio Della porta Insiste la Roma Statuto In avanti Trova Negro Ora di Matteo Signori Ha spazio davanti a sé Si allarga Esposito Il tocco invece È per la corrente Vinter 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 Entra in area Sinistro Cervone In due tempi Botta e risposta Tra Balbo E Vinter E attacchi Che cominciano a pungere Lanna In profondità La partita Adesso è più bella Nesta Resiste anche A Giannini Vinter Dalla parte opposta Trova Fuser Si muove Signori Il tocco invece Era per Esposito Esposito che ha spinto E che chiaramente Ha commesso fallo Il sinistro Di Aaron Vinter Che riesce a tenere Basso il pallone Non a sorprendere Cervone Carboni Si lamenta Ma il gioco prosegue Signori Deve ancora entrare Nel vivo del gioco Il piccolo Grande bomber Bianco Celeste Sbaglia l'appoggio Adesso Allora che arriva Fuser Illude bene Il raddoppio Di marcatura Con un tocco Di Matteo Diego Fuser Lontana Aldair Negro Sempre su Fuser Ruba il tempo A statuto Lo salta Chiama palla Bocic Il cross è per lui Impreciso Va bene Ha detto Dall'aviale Bocic Che però Con la mimica Ha anche indicato Il lancio Magari più Verso la porta Alain Bocic 25 anni Ci ricorda La regia Col Marsiglia Ha vinto la Coppa Dei Campioni Una scoperta Di Scoblar Il suo Insigne Il predecessore Lui croato E anche lui Ex Grande puntato E allenatore Del Marsiglia Carboni Di destro Serve Balbo Triangolo che non si chiude Per l'intervento di Nesta Che ancora una volta Però butta via il pallone Grande talento Bianco Celeste Nesta Ormai Sono 11 anni Che tra giovanile E prima squadra Veste La maglia degli Aquilotti È iniziato come attaccante Come punta Alà Poi anche centrocampista È stato spostato Difensore Da mimo caso Grandemente Della primavera Laziale In Serie A L'ha fatto invece Debutare Dino Zoff A Udine Come laterale sinistro E qualcuno ricordava Il buon auspicio Chiaramente Per Per Nesta Che anche Un certo Paolo Maldini Ha debutato A Udine Come torsino sinistro In Serie A E messo a favore Della Roma Il gioco da Carboni Non controlla Fonseca Non arriva neanche Balbo E' un gioco di un laziale E quindi Il gioco ancora affidata Ai giallorossi Sempre Carboni Non trova compagni liberi Si affida a statuto Gli rende il pallone Poi Fonseca Tutti di prima Dei giocatori della Roma Interrotti Da Negro Il gioco di Biagio Prova lo slalom Non riesce Per la scivolata di Di Matteo Voxic Folata Offensiva della Lazio Si guarda intorno Voxic Poi decide di portare palla Serve Fuser Nel momento in cui Fuser ha subito fallo Calcio di punizione In favore della Lazio Preziosi gli inserimenti Da dietro Di Diego Fuser Uno dei giocatori Più ispirati E più concreti Di questa Lazio Almeno in questi primi 31 minuti di gioco E questo vorrei anche In colporto poi Di Fulvio Massimo Ma certamente Direi positiva Forse il migliore Della Lazio In questo momento Fuser È libero Da qualsiasi schema La Lazio Come vedi Sta facendo una partita Di attesa E lui è il giocatore Che si inserisce meglio Ad aiutare Boxis E anche signori Che è un signore Sottotono Però devo dire Che signori Questa sera Parte da molto lontano La Lazio È molto È molto contrata Anche se in questi ultimi Dieci minuti Direi si è sbloccata Ecco evidentemente La tensione Del debile Diciamo il 2-2 Di domenica Contro l'Udinese Come abbiamo detto Procedentemente Intanto scusa Petruzzi viene portato Fuori in Barella Mi auguro chiaramente Che non sia nulla Di grave per lui Roma momentaneamente In dieci uomini Si rialza però Petruzzi Vuol già riguadagnare Il campo E così è Nessun problema Quindi per Libero Giallo-Rosso Si toccava dietro La coscia Però per fortuna Per il momento Nulla di grave per lui Calcio di punizione Per la Lazio Affidato chiaramente Al sinistro Di Beppe Signori Che prova A raso terra Pallone che va Infrangersi sulla barriera Tenta anche il negro Trova l'Anna Sulla sua strada Poi è Fonseca Che allontana Nesta E comincia tutto Da Marchigiani I minuti sono 33 Nel corso del primo tempo Sempre 0-0 Tra Roma e Lazio Vinter Ciamotte Di Matteo Esposito Attaccato subito Da Carboni Poi ruba Palla a Balbo Lo scambio con Giannini Troppo in profondità Esposito Poi in negro Per il retro passaggio Marchigiani Si riparte dalla sinistra Allora da Favalli Bocic Signori accanto a sé Si propone anche Largo Favalli E lui che riceve Al centro però Non c'è nessuno Il cross in effetti Arretrato per Signori Che prolunga Bocic L'anticipo di Aldair A Piole allontana Insiste la Lazio Con Di Matteo Nesta Si rivede adesso Il tridente Della Lazio Con Esposito Portato più avanti Ed è la Lazio Che negli ultimi minuti È diventata più Più offensiva Comincia A dettare le sue trame Nesta Fuser Si inserisce Giannini Prova il colpo di tacco Balbo Il fallo di Negro Secondo Cesari In questo caso Anche secondo me Massimo Perché penso che Le abbia toccato Proprio il piede Mentre appoggiava Battuto Giannini Scambiato con Di Biaggio Sponda di Balbo Aldair Vienendo palla Cappioli Non c'è fuori gioco Di Biaggio Dice il guardaline Ciamocchi Si rifugia Il fallo laterale Anche questo invece È tutto da verificare A mio modo di vedere Ho avuto l'impressione Che fosse fuori gioco Sì Sì Sul tocco in profondità Ha lasciato correre Però la terra arbitrale Bocic Controllato da Lanna Il lancio è per Fuser Petruzzi Arriva prima di lui Fulvio L'impressione è che La Lazio stia usando Poco anche le fasce laterali Almeno sino a questo momento Ma è una Lazio bloccata Massimo Abbiamo visto Esposito Magari a volte Preferisce spingere Centralmente Preoccupato anche Dalle incursioni di Carboni E Mazzone Che è una vecchia volpe Fa giocare I tre difensori dietro I cinque centrocampisti Questo È un po' anche La motivazione Del fatto che Il centrocampo della Roma Ha il sopravvento Rispetto a quello Della Lazio Perché sono solo Tre centrocampisti Però è vero Si gioca poco Sulle fasce Perché gli esterni Favalli e Nesta Sono Direi che sono bloccati In una posizione di attesa Esterni Fulvio Che sono una delle armi principali Della Lazio Quando decide di vestire I panni Della macchina da gol Certo Perché sono Direi che è una delle armi Di Zeeman Di sfruttare Gli inserimenti esterni Per mettere in condizione Le due punte Di chiudere Con delle Direi delle Vertidizzazioni A ciò che recupera il pallone Al centrocampo Con Winter Poi chiude Perfettamente Petruzzi Di Biagio Capioli Roma Che sfrutta le fasce Adesso Copre benissimo Aaron Winter Che sta crescendo Così come tutta la Lazio In questa Seconda parte Del Del primo tempo Un metro e mezzo Dicono Massimo Un metro e mezzo Mi sembra veramente troppo Questa macchina infernale Ci sta creando dei problemi Un metro e mezzo Mi sembra troppo I nostri dubbi Si sono infranti Sulla misurazione Del compiuto Lanna Gennini Balbo Petruzzi Che dimostra Di aver assorbito Senza problemi La volta precedente Statuto Pressa di più E con maggior decisione Adesso la Lazio Statuto Pioli C'è Fonseca In avanti palco Il tocco per l'argentino Meglio l'italiano L'ex argentino Esposito È una zona però Dove ci sono solo romanisti Di Biagio Che è un ex Al pari Parte invertita Di Nando Orsi Biagio ha giocato Nella prima era Della Lazio Adesso disputa Questo derby Con la maglia della Roma Al contrario Forgiato Dalle giovanili Giallorosse Nando Orsi Da molto tempo Una colonna Dello spogliatoio Bianco-celeste Signori Di prima in profondità Si alza la banderina Del guardaline E Boxic era in fuorigioco Boxic era in fuorigioco Però In questo caso Io contesto A titolo personale Boxic era in fuorigioco Sulla fascia Totalmente inattivo Dal mio punto di vista Questa immagine Che ci regala La regia Di Nello Isola E I nostri cameraman Dell'SBP Roma Abbiamo visto Come si muovono Incrociano le punte Giallorosse Roma che recupera Ancora il pallone Carboni Giannini Di Biagio Spazi stretti Adesso A centrocampo Con Lazio Che sta serrando Ancora di più le maglie E permette sempre meno La Roma Di provare vanti Prova adesso Aldair Lontana Ciamotto Buon controllo di signori Poi desterno Sinistro Allarga Per Boxic Galoppa Il croato Al centro Arriva anche signori Boxic Per signori Limite Appoggia Esposito Destro largo Ma c'è calcio d'angolo Occasione Ghiottissima Per la Lazio Che fa il pari Con quella precedente Di Balbo Ottima visione Di signori Providenziale La deviazione Incivolata Su Esposito Stava colpendo Di piatto destro Quasi La botta sicura Dico quasi Perché c'era comunque Cervone tra i pali Battuto il corner Pallone che si impenna Lo raccoglie Fuser Che riapre Nesta Taglia il campo Dalla parte opposta C'è Pavalli E non controlla Però Fulvio La Lazio Si sta facendo sentire Un po' di più In questo finale Di tempo Ecco Prima mi corrego Perché tu sai Io ho detto Verticalizzazioni Chiaramente Erano verticalizzazioni Hai visto subito Una verticalizzazione Con signori Che è partito Da centro campo Ha dato una palla A Boxic E Boxic Si è inserito Praticamente è stata Un'azione tutta in profondità Ecco Questa è la Lazio Che probabilmente I tifosi naziali Si aspettavano Una Lazio in velocità E in questi ultimi Cinque minuti Probabilmente È la Lazio Che vuole zero Perfetto per tempismo Come ci ha mostrato Il replay precedente L'intervento incivolato Di Amedeo Carboni A sbrogliare Una situazione Che si stava facendo Complicata Per la retroguarda giallorossa Alcio d'angolo Dice il guarda eliene Ciamotte Ha accompagnato Il pallone fuori Penso abbia ragione Saia in questo caso Perché Ciamotte L'ha toccata Probabilmente Nella concitazione Della protezione Che voleva dare Alla palla Non si è reso conto Dell'ultimo tocco Penso abbia ragione Saia Attenzione a queste sviste Ancora Nella difesa Bianco-Celeste Calcio d'angolo Quasi gratis Per la Roma Visto che il possesso Di palla Era di Ciamotte Batte ancora Fonseca Fischia Cesari Faccio di punizione Per la Lazio Questi un tempo Si chiamavano Falli di confusione Nel senso che non si capiva Chi ha fischiato l'arbitro Nesta Fuser Ha dato tanto Nel primo tempo Pesca Dalla parte opposta Signori Tiene in campo Il ballone Con una troppo anziano Riesce però Ad orientarlo Verso un compagno Aldair Di Biagio Giannini Chiuso da Winter Lascia scorrere Il pallone Fonseca Si lamenta Per una trattenuta Così come Qualcuno Dei suoi compagni C'è Dele lasciato Proseguire Fuma in panchina Zeman Sullo sfondo Anche il team manager Maurizio Manzini Mentre è Lanna Che porta palla Offside Già battuta Da un Lazio Che adesso Non perde tempo Lanna Giannini Si sta muovendo Molto Da lui partono Tutte le iniziative Della Roma E qui Regala La rimessa Da Lazio Decisione Tra Statuto E Carboni Con le mani Fuser Il solito Mazzone Che chiede Ottiene Il contropallo Proverbiale Grinta Scusami se ti interrompo Ma in questo caso Non c'è contropallo Mazzone Con la sua Proverbiale Grinta Ha fatto in maniera Che quelli della Lazio Si rendessero conto Che se avessero battuto Ci sarebbe stato Cambio di fallo Panettone Quindi Da parte Di giocatori La Lazio Natale Mazzone Benissimo Si perché deve essere battuto Per ordinare Un contropallo Giannini Fonseca Guadagna Un'altra Rimessa Laterale Connesso Molto bene Direi L'Uruguayano L'occasione Principale Poi è capitata Sul piede di Palbo Con quanto concerne La Roma Appunto poi Per così dire Pareggiato Dal Tentativo di esposito Anticipato Da Carboni Per proposito di anticipi Quello di Ciamonte Il lancio Per Voxic Controlla Seguire La conclusione Larga Un appunto Che si può muovere La Lazio In questo primo tempo E che quando Spinge un attaccante Va in verticale Non è mai poi seguito Fulvio Confortami In questo Da qualcuno Che stringa Al centro Per poter sfruttare Un cross Un tocco O anche solo Un ripallo E beh ma questo Succede perché I giocatori I giocatori della Lazio Sono tutti rintanati Nella propria metà campo Per cui Quando fai il lancio lungo Parte il lancio lungo Della difesa L'attaccante si trova isolato A quel punto lì O deve concludere la rete O se fa il passaggio Dentro l'aria La squadra Non ha fatto in tempo A seguirlo Ancora Nesta Rimedia ad un errore Ma quasi regalando Il pallone A Fonseca Poi è bravo A dribblare Un paio di giocatori Della Roma Miaguato C'era Palpo E qui c'è il primo Cartellino giallo Esatto In questo caso Giustissimo Perché abbiamo visto Chiaramente Di Matteo Andare a strattonare Da dietro Trattenere Ecco qua Lo rivediamo Di Matteo Non si preoccupa assolutamente Del pallone Solo di stendere Cioè lo trattiene Non è un pallo Cattivo O violento Per carità Però questo A termini di regolamento È un fallo da munizione E infatti Va sul taccuino Dei cattivi Per primo Di Matteo Quando siamo Praticamente Allo scadere Del 45esimo Sempre 0 a 0 Tra Roma e Lazio Parlottano Giannini e Carboni Cinque uomini In barriera Per Marchigiani Distanza Ci comporta Il computer Regolare Da parte Della barriera Se ti piaggio Anche Balbo Da quella posizione Potrebbe provare E infatti Sembra proprio Balbo A tentare Il destro Così è Ancora una volta Sulla barriera Carboni Recupera Deve essere Calcio d'angolo Sicuramente Calcio d'angolo La pensa diversamente Sia Cesari Che il guardalini Sì L'ho visto Però secondo me È stato deviato Anche secondo me Vinter Quasi un minuto Di recupero Balbo Disturbare L'azione Della Lazio Statuto Sale Inesauribile Carboni Lancio di prima Prontissimo Negro Copre Poi Nesta Quindi Fuser Attaccato da dietro Da Fonseca Irregolarmente Dice Cesari Che ha avuto Sino a questo momento Un primo tempo Meno cruento Di quanto forse Non si attendeva Lo stesso Fischietto Sicuramente Era molto più Preparato A una battaglia Lavoro facile In questo primo tempo Per ora Decide che Abbastanza Per la prima frazione Di gioco Cesari Quasi un minuto e mezzo Di recupero 0-0 Tra Roma e Lazio Non sono mancate le opportunità La Roma ha gestito Un po' di più il pallone Lazio più prudente Più accorta In questo primo tempo Le sorprese Le emozioni E chiaramente i gol Ci auguriamo Che le due squadre Ce le abbiano riservate Per il secondo tempo Si va Negli spogliatoi Sul risultato di parità 0-0 Fulvio Un risultato tutto sommato giusto Roma che ha fatto un po' di più la gara Direi un risultato giusto Non è stata una partita Io in settimana Prevedevo una partita Dai toni veramente accesi Non è stato così Evidentemente anche le parole Le parole Direi di Di contenimento Da parte dei due presidenti Sono state Sono state Perseguite Dai giocatori Direi una partita Francamente Che continua a non vederlo Il contatto Non per smentire Quello che stai dicendo Per carità Però Poniamo anche Che ci sia stato un contatto Lui ha portato via il pallone Di conseguenza Da un punto di vista Di azione Di dinamica di azione Che il contatto Viene vanificato Cioè è stato vanificato Poi l'equilibrio L'ha perso successivamente Per quello che riguarda Una parola velocissima Sul discorso Dell'ammunizione Ammunizione è vero È regolamentata In una certa maniera C'è un po' di discrezionalità Da parte dell'arbitro Credo che ci vorrà Un pochettino di rodaggio Anche da questo punto di vista Però francamente I simulatori Io sono dell'avviso Che debbano essere penalizzati E in maniera dura Per quello che riguarda Gli arbitri Il problema sarà sicuramente Quello di cercare Di cogliere l'azione Cioè proprio la simulazione Mentre in quest'ultimo periodo In questa prima fase Di campionato Abbiamo visto che Qualche piccolo errore C'è stato Vabbè Ci sentiamo alla fine della partita Va bene Va bene Va bene Va bene Intanto sono rientrate in campo Le squadre Tutto è pronto Per il calcio d'inizio Del secondo tempo Che sarà dato Dalla Lazio Non mi sembra di ravvisare Sostituzioni da una parte E dall'altra Cesari È pronto a Dare il fischio d'inizio Di questo secondo tempo E allora si riparte Lazio che attacca In Questo secondo tempo Da destra Verso sinistra Con Marchigiani Negro Nesta Di Matteo Favalli Ciamotte Fuser Boxic Esposito Winter e Signori Roma Nella classica Tenuta giallorossa Con Cervone di Biagio Lanna Petruzzi Alderire Carboni Capioli Statuto Balbo Giannini E Ponseca È proprio Giannini Che appoggia Che appoggia verso Petruzzi Lanna Ancora Giannini Statuto Statuto Attaccato da Di Matteo Balbo Fonseca Cercano il triangolo I due Interrotto dal colpo di testa Di Favalli Nel retropassaggio Per Marchigiani Si riparte Subito da Nesta Esposito Boxic Pasticano il controllo Esposito La Roma Recupera il pallone Con Petruzzi Di Biagio Adair Di Biagio In seguito da Winter Statuto Si gira il pallone La Roma Guadagna poco campo Molto in orizzontale L'alluncio di Petruzzi Giannini Carboni Spazi stretti Balbo Vole a girare al volo Proprio verso Giannini Allontanato Il muro difensivo Della Lazio Cercato Fonseca C'è invece Favalli Poi Winter Balbo si intromette Fuzero Si perde Questa azione La Lazio Continua a avere problemi A costruire gioco E si lamenta Beppe Signori Urlando qualcosa Ai suoi Lanna Svolata Recupera Esposito Scatta prontamente Fuzer Di Matteo In avanti Una metà Tra Bocic C'è Signori Ne approfitta Aldair Lancio immediato Verso Fonseca Chiuso però Ciamotte Sale a nesta Fallo Carboni Che ha spinto Le spalle di Esposito Calcio di punizione Fuori della Lazio Fulvio Non è cambiato Moltissimo Almeno in questi primi Tre minuti Del secondo tempo Nell'orientamento Tattico Delle due squadre Guarda La partita Non offre Spunti interessanti Tranne Zeeman E Mazzone Che continuano A fare dei campi Tattici Anche per cercare Di dare una svolta Alla partita Prova Esposito Chiuso Va giù Non c'è fallo Però Balbo Di Sponda Il lancio Di Di Biagio Troppo lungo Per tutti Sulla sinistra Adesso la Lazio Controlla Signori La ripresa D'Aldair Giardini D'esterno Ha letto bene Le sue intenzioni Negro Esposito Si allarga Fuser Di Matteo Copisce male Serve comunque Esposito Buono il suo palleggio Subisce il fallo Di Petruzzi Calcio di punizione In favore della Lazio Battuto rapidamente Gioco allargato Su Fuser Dalla parte opposta Di Matteo Per Winter Si propone Favalli In sovrapposizione Esposito Scivola ancora E poi Statuto Stato spinto Da Fuser Che si lamenta Direi a torto Il fallo L'ha commesso Si è rialzato Statuto La punizione È già stata battuta Il lancio In profondità Per Balbo La botta al volo E pallone Che supera La trasversale Ha percorso 60 metri di campo La Roma Con un passaggio In una rapidità Straordinaria Contrariamente A quanto non aveva fatto Invece prima Andando molto Con tocchi orizzontali Fuser Ancora Esposito Sempre nel vivo Del gioco Era stata ipotizzata Una staffetta Con Rambaudi Che per il momento Invece resta In panchina Cappioli Non passa La guardia di Pavalli Signori Subito verso Boxic Chiuso da Petruzzi Poi statuto Carboni Giannini Quando c'è Fonseca Stringeva verso Il centro Balbo Ottimo Il doppio Tec Il diffuser E poi D'esterno Riesce a servire Signori Posizione centrale Ma arretrata La sua Elegante Il disimpegno Tra Lanna E Giannini Avanza Lanna Fonseca In possesso Di palla Al centro C'è Balbo In basso Anche Cappioli Viene palla Fonseca Alla fine Viene trattenuto Da Di Matteo Il calcio Di punizione È in favore Della Roma Cinque minuti E mezzo Nel corso Del secondo Tempo Il punteggio Sempre di 0-0 Tra Roma E Lazio Entrambe Sostanzialmente Guardinghe Occasioni Non moltissime D'una parte E dall'altra Si fa sentire Adesso La tifoseria Della Roma Prova La conclusione Da distanza Potente Giannini Ha dettato I tempi Del gioco Il principe Poi ha cercato Di trovare La soluzione Personale Destro Potente Non preciso Marcheggiani È parso Comunque Sulla traiettoria Buona la partita Sia in questo momento Di Giannini No Fulvio Direi una partita Positiva Però Direi che I centrocampisti Della Roma Sono molto Vicini Per cui Vengono aiutati Anche Letteralmente Sinistro Sinistro Di signori Un'attacchettata 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 Non direi neanche casuale Gratis Esatto Veramente brutta E sanzionabile Dall'arbitro Sì Doveva essere sanzionata Come secondo te Se l'avesse visto Se l'avesse visto Questo è un rosso Non si può sanzionare In nessun'altra maniera Anche secondo me Era un intervento Da espulsione Quello di Di Biagi Tra l'altro Anche sciocchino Perché Sì Estremamente gratuito Pallone in profondità Cervone Giganteggia su tutti Giannini Carboni Funzeca La rimessa della Roma Intanto continua Stazionare Proprio Sul tappeto verde Il fumo prodotto Dai Fumogeni Che i tifosi Da una parte E dall'altra Hanno Utilizzato Nell'intervallo La copertura È molto bella Ma poi non permette Al fumo Di uscire Questo un po' Rende precaria La visibilità Anche Dei tifosi Presenti qui allo stadio La Roma Recupera ancora Con Statuto L'arga per Conzeca Al centro Va Statuto Anche Balbo Arriva anche Capioli Il cross Basso Marcheggiani Ha ritrovato Il pallone Punto centrale Troppo Un supportiere Il centro Di Fonseca Ma Però un piccolo Brivido Brivido Per i tifosi Della Lazio Boxic Ha guadagnato calcio Di punizione L'ha battuto Lui stesso Esposito Prezzo pallonetto A seguire Facile Preda Di Cervone Tra la perplessità Dei compagni Di reparto Stiamo avvicinando Signori Continua a muoversi I palloni Giocabili Ne ha ricevuti Pochissimi C'è da dire Che parte molto Da dietro Come in questo caso Riesce ad arpionare Il pallone Non rischia Petruzzi In questo caso Ci sarà la seconda Ammonizione Inevitabile Era andato via Molto bene Signori Sul primo passo A Petruzzi Saltato Lo mette giù Da dietro Eccolo qua Fallo volontario Fallo volontario Cartellino giallo Inezcepibile Però direi Petruzzi Ha evitato Guai forse maggiori Inevitabile Il fallo Di Fabio Petruzzi Sempre temibile Signori Quando parte Palla al piede Nella fascia centrale Aveva anche L'opzione Boxic Che si era allargato A sinistra Faccio di punizione Produzione centralissima Per la Lazio Potrebbe tentare Signori Anche Fusere Un ottimo tiratore Lo sa chiaramente Cervone Sta disponendo Il suo muro Proprio Signori E Fusere In zona battuta Barriera A distanza Quasi regolamentare Prova la conclusione Cervone Si supera Con un miracolo Grande calcio Di punizione Della Lazio Splendida La risposta Di Cervone Fusere Colombella Colombella dolcissima Indirizzata Verso il 7 Tocca Cervone Il pallone Va a sbattere Anche Proprio sul 7 Grande intervento Di Giovanni Cervone Battuto Il calcio d'angolo Ancora Cervone Che smanaccia Resta la Lazio In zona d'attacco Con Boxic Cerca spazio Il cross Deviato Rimessa dal fondo Perché il cross È stato deviato Ma era già E' ripetuto Col pallone Già oltre la linea bianca Era già uscito Infatti Grande intervento Di Cervone Ma splendida La punizione Di Diego Fusere Che ha pescato Proprio l'angolo Come voleva Fortunata La Roma In questo caso Perché la deviazione Di Cervone È andata poi A sbattere sul palo Prova Carboni Chiuso Fallosamente La punizione È per la Roma Si propone statuto Al centro Ci sono in tre Balbo Fonseca Anche Cappioli Palla nel mucchio La insegue Cappioli Ma la rimessa È comunque Per la Roma Aldair Una finezza Alla sua Di tacco Poi cerca Di filtrare Non ci riesce Resta a terra Aldair Cesari Ne approfitta Per chiamare Il medico Dottor Alicicco 40 presenze Nella nazionale Bresiliana Con la quale Si è laureato Campione del mondo Aldair Già nell'ottano 89 Aveva vinto La Coppa America Merita anche Il controcampo Questa punizione Pennellata Da uno specialista Come Fuser Grande botta e risposta Tra lui E Cervone Adesso la punizione Però è per la Roma Sul pallone c'è Giannini Sarà probabilmente Fonseca Cercare La conclusione Potrebbe con il suo sinistro Quattro uomini in barriera Per Marchigiani Tre gli attaccanti Della Roma Prova la conclusione Fonseca Marchigiani Di pugno Pallone che si impenna Cappioli Allontana Favalli Fuori gioco Fischiato Dall'arbitro Senza la segnalazione Del guardalino Esatto Secondo me Cesare è sbagliato In questo caso La posizione Mi sembrava regolare Aspettiamo il conforto Del nostro strumento Però ho avuto La netta sensazione Che la posizione Fosse regolare De Santis Non era andato su Ed era in linea Intanto L'intervento Di Marchigiani Di pugno Ad allontanare Il caso di punizione Di Fonseca Ancora La Lazio Connesta Di Matteo Si allarga Pavalli Che scatta in profondità Così come Vinter Lanciera Per Favalli Senza dito Cappioli Rezioso Ma efficace Il disimpegno Della Roma Giannini Attaccato Dall'ottimo Fuser Grande prestazione La sua Riesce a mantenere Il possesso Del pallone Tra due avversari Poi Vinter Elude il pallo Di statuto Di Matteo Nesta Ancora Fuser Ma questa volta Il controllo del pallone Il guardalino Gli dà ragione Perché gli assegna La rimessa laterale Probabilmente Ultimo tocco Dell'inquadrato Terzino della Nazionale Amedeo Carboni Tra Fuser Con le mani Esposito Non c'è spazio Il pallone sarà gestito Però ancora Dalla Lazio Un calcio di punizione Si determina Per questo contatto Tra Esposito E Carboni Sono tre giocatori Della Lazio In area Altri tre Nei pressi Dei 16 metri Quasi tutta la Roma Adesso compressa Nella sua area di rigore Parte lo spiovento In area L'anticipo Di Petruzzi Ancora Fuser Spazio per lui Le finte Su statuto Va a doppiare Anche Fonseca Indiavolato Fuser Questa sera La fine si allunga il pallone Lo ha chiuso Giannini Interviene ancora Cesari Per permettere L'ingresso Ancora dei sanitari Perché Carboni Si è preso una botta Si si era Scontrato Precedentemente Con Boxic Durante l'azione Nel punto Tra l'altro Ha preso una botta Dove Carboni Ha appena levato Due punti di sutura Che gli erano stati Applicati Mi sembra Nella partita Con il Milan Si due settimane fa Fatto bene Perché quando ci sono Questi colpi in testa È sempre bene Infermire Amadeo Carboni Nella Roma Nella Roma Che ha vinto L'ingaggio La Sommissione Nell'Hockey Adesso Prova con Adair Boxic Lo debole L'impegno del Croato In questa gara Fuser Esposito Su di lui Prana Lanna C'è ancora calcio di punizione In favore della Lazio Sono quasi 17 Nel corso del secondo tempo Il punteggio sempre di 0 a 0 Grande brivido per la Roma Con lo splendido calcio di punizione Di Fuser Qualche minuto fa Carica di questo calcio di punizione Signori Batta ancora tagliato in area In testa al Dair Il pallone che si impenna Interviene ancora Cesari Che adesso sta spezzettando molto il gioco Sì in questo momento Sta spezzettando il gioco Probabilmente vista dalla sua ottica E anche diciamo Un'interpretazione migliore Perché ha avuto un accenno Anche di Così Probabilmente Di andarsi un po' troppo sopra le righe Da un punto di vista Proprio L'impegno del calciatore Va ancora in profondità La Roma Formando tutto Ciamot Boxic Fortunato nel rimpallo Si trova il pallone tra i piedi Vinter accanto a sé Fuori gioco Tardivo il suggerimento di Boxic Continuava a chiamare il pallone Rolandese Alla fine è terminato in offside Fulvio io vorrei sapere da te Che sei proprio lì a bordo campo Dimmi Qual è l'aspetto fisico Soprattutto dei giocatori della Roma Si è parlato molto In questo inizio di stagione I giocatori della Roma Che hanno nelle gambe Bene 50-60 minuti E poi Almeno nelle prime partite Hanno sempre subito un calo In questo caso Sta crescendo la Lazio Adesso in questa fase Attenzione però A Ciamotte Che ancora ne stava per combinare Una delle sue Poi ha rimediato Centrale a rischio L'argentino Per la difesa della Lazio Dicevo La Lazio adesso sta cercando E sta trovando anche Di più il suo gioco Sta cercando di imporlo un po' di più Si può ipotizzare Un calo atletico della Roma Ma tu che sei lì Ma è chiaro che io mi auguro Di no per la Roma In questo caso Perché contro il Milan È successo questo Direi una grande Roma Il primo tempo L'ultima mezz'ora La Roma è completamente A corto di condizione È chiaro che si è richiamata Si è tirata in ballo La preparazione C'è da dire però Che adesso c'è un buon momento Anche della Lazio Ma di là delle tue speranze Volevo capire proprio Quali sono le tue impressioni Da calciatore Che sta a porto campo Ma vedo un ottimo momento Da parte della Lazio La Lazio che finalmente Anche non è vero Che Zeman non parli Zeman sta incitando La sua squadra Da credire di più Ha capito che la Roma È in difficoltà Ha capito che la Roma È in difficoltà Per cui stiamo assistendo Veramente a direi A più aggressività Va bene va bene Tra le righe Da questa ultima dichiarazione Colgo che la Roma È lievemente in difficoltà A fatica ma ti ho strappato Questo dato fisico Sui giallorossi Razio che recupera il pallone Con Vinter Va al lancio Per Fuser Copre in anticipo Lanna Ecco c'è della rimessa laterale Alla Lazio Con i minuti sono quasi 20 Nel corso del secondo tempo Il punteggio è sempre di 0-0 Tra Roma e Lazio Ma inerzia della gara Che adesso sta cambiando E in effetti Mazzone sta facendo scaldare Tutti i componenti Della sua panchina Ricordo Oltre al secondo portiere Sterchile ci sono Annoni Scarchilli Totti e Branca Invocato a gran voce Dalla curva Nuovo grande idolo Della sud Marco Branca Di Matteo In profondità fuori gioco Anche in questo caso Secondo me Signori La Roma è già ripartita Ma Di Matteo Recupera un altro pallone Al centro campo Locra a disposito Si fa vedere Riceve Boxic Destro In scivolata Petruzzi In fallo laterale Roma che adesso Sta soffrendo Lazio che ha idee più chiare Soprattutto uno Lazio Più ficcante in avanti Dato che non sfugge Chiaramente Alla curva nord Che a gran voce Sta incitando i propri Beniamini Nesta Toccolaterale Di Matteo Prova la conclusione Un destro Dimostrativo Per un Cervone Che ha controllato Senza problemi L'uscita Del pallone E adesso mi sembra Che Mazzone Stira facendo preparare Proprio Branca Mi comporti Fulvio Sì stanno entrando Branca Esce Fonseca Di Biagio Fonseca che è un po' Calato in questi ultimi minuti Di Biagio evidentemente E Scarchilli Branca e Scarchilli Stanno entrando Doppio cambio Quindi Si prospetta Per la Roma Attenzione alla Lazio Ancora in avanti Altro fallo Altro calcio Di punizione E altra munizione E altro cartellino giallo Altro cartellino giallo Si allunga la lista Dei cattivi qui Si sta allungando Siamo alla terza Qua lo rivediamo Però Carboni Può solo meritare L'ammunizione In questo caso Cioè direi che Probabilmente È sembrato più plateale Che realmente forte Come intervento Però il cartellino giallo Ci sta tutto Ammonito quindi Anche Medeo Carboni Intervento su Esposito Dopo intervento Sia di piede Che con il braccio È stato trattenuto Esposito anche Con il braccio Terzo munito Molto bene il pallone Non rapidissimo lui Ma Grande visione di gioco Buon tocco di palla Giocatore anche Un po' sacrificato A dover guardare Quasi tutto il campionato Almeno fino a questo momento È stato così Dalla panchina E poi entra Marco Branca Usciranno Almeno così Ci ha preannunciato Fulvio Collovati Fonseca Che ha dato molto Ha giocato bene A mio avviso Soprattutto nel primo tempo E E di Biaggio Mentre La Lazio In dieci Perché Esposito Viene portato fuori In barella Preoccupazione Che si legge Sul volto Di Mazzone Intanto Può rientrare Esposito Al suo fianco Il dottor Bartolini Dalla Lazio Che potrà beneficiare Prima Del doppio cambio Della Roma Di un calcio Di punizione Applausi Accompagna Il rientro In campo Di Esposito Pronto signori Sul pallone Fuser A centro area In agguato Boxic Anche Winter Prova signori Pallone Che va a imprangersi Sul muro Palazio Che mantiene ancora Il possesso Del pallone Boxic L'attacca Aldair Se ne libera Suo il cross Al centro Pallone che filtra Fuser Contro cross Winter Disturbato Probabilmente Da signori E la Roma Che può ripartire Con Di Biaggio La sponda Di Fonseca Giannini Statuto Subito attaccato Perde palla E' un ottimo Lazio adesso Esposito Statuto Rimedia Si rifugia In fallo laterale Ed eccoli i cambi Preannunciati Entra Scarchilli Al posto Di Di Biaggio E Marco Branca Al posto Di Fonseca Dell'azione In precedenza Della Lazio Ha toccato Signori Il pallone Di quel tanto Che ha messo Fuori causa Winter Stava tentando La porta al volo Di destro Cambiata nettamente L'inerzia Della gara Adesso è la Lazio Che mantiene L'iniziativa E spinge Contro una Roma Che sembra un po' Sulle ginocchia Entra Marco Branca Grande uomo mercato Inseguito Dall'Inter Ma anche Da altri club Grande Beniamino Della Sud Qui ha segnato Quest'anno Il gol Del pareggio A Genova Contro Contro La Samp Petruzzi Ora Lanna Benvenuto Cesare Il calcio di punizione A favore della Roma Già battuto Statuto Lascia a Carboni Disposito recupera Pallo su di lui E anche qui Ci vorrebbe l'ammunizione E c'è anche l'ammunizione E c'è l'ammunizione Brutto Cominciano a scaldarsi Gli animi Diciamo che Cesare Fa molto bene A spezzettare In questa fase Della partita Il gioco E a essere molto rigido Nella munizione E rivediamo Eccolo qua Questo è un fallo Da espulsione Però Qui ci possono essere Ci possono anche essere Gli estremi Delle espulsioni Pervento volontario E gambe unite Sull'avversario In effetti Giusta Quanto meno L'ammunizione Per Scharchilli Entrato subito In Clima Derby Nesta L'anticipato Balbo Poi Giannini Dopo il tocco Di Carboni Che adesso è andata A recuperare il pallone Petruzzi Adair Adair Buon anticipo Ancora della Lazio Lentamente più fresca La formazione di Zeman Grande condizione atletica E questa che in questo momento Sta facendo la differenza Si prepara un cambio Anche per la Lazio Rambo Rambaudi Avrà a disposizione Poco meno Di 20 minuti Mentre la Lazio Può beneficiare Di un calcio d'angolo Esce Favalli Ed entra Rambo Dice però Probabilmente un altro cambio Perché c'è anche Romano Pronto ad entrare Questo cambia Il senso della sostituzione Di Favalli Con Rambaudi Se entra Romano Allora diciamo che Romano È entrato al posto Di Favalli E Rambaudi Entra al posto Di Esposito Siamo secondo logica Sono un po' Le sostituzioni annunciate Alla vigilia Erano i dubbi Di Zeman Ha dato spazio Ad Esposito E a Favalli Dal primo minuto Adesso forze fresche Per una Lazio Che sta spingendo bene E adesso beneficia Di questo calcio d'angolo Battuto lungo Sul secondo palo Lo insegue proprio Rambaudi Pallone che scivola Oltre la linea di fondo Nulla di nuovo Quindi nella Lazio Dal punto di vista Tattico Adesso Nesta Probabilmente passerà A sinistra Romano va a fare Il laterale di destra Dei quattro difensori Di Zeman Rambaudi Rileva Il posto di Esposito Massimo Fulvio Direi che Zeman Il grande allenatore Che è Ha capito Che ha la partita Completamente Nelle sue mani In questo momento E ha fatto entrare Rambaudi Perché È certamente Un giocatore Più offensivo Di Esposito Per cui Mi viene un po' Da pensare Quello che mi ha detto Marco Lim Prima della partita Ha detto Noi nei secondi tempi Perdiamo un po' La concentrazione Anche dal punto di vista Fisico Perdiamo un po' Ma in questo caso Insisto però Fulvio Che viene anche Da ripensare A quelli che sono stati I secondi tempi Dal punto di vista Fisico Atletico Della Roma Ecco Probabilmente Sì È da rivedere qualcosa Sul piano della condizione Perché la Roma Lascia qualche dubbio Dal punto di vista fisico Evidentemente È inutile dirlo Che non è ancora Al massimo Della condizione È abbastanza chiaro Balbo Prova a chiudere Un triangolo Anticipa tutti È tutto Marchegiani Turba Nord Che incita Rambaudi Appena entrato Scarchilli Si allunga il pallone Nel controllo Eccolo Rambaudi Anticipato però Romano Lanna Statuto Cerca e trova Branca Controllo Non facile pallone Branca che ha vinto Lo scudetto Con la Sampdoria L'ha vinto anche Da protagonista Non è stato Troppo fortunato Nel corso della sua carriera Perché è andato Sempre a giocare In squadra Dove pur segnando Molti gol Non gli è mai stata Assicurata la maglia Di titolare Ma è uno dei grandi Bomber Del nostro campionato Calcio di punizione In favore della Roma I minuti sono 30 In questo istante Nella ripresa Il punteggio sempre Di 0 a 0 Proprio Branca Nel mucchio Parola lontanato Da Di Matteo Petruzzi Se un giocatore Della Roma A terra E prontamente Se ne accorgi Cesari Molto attento Sì in questo Molto attento Anche perché Quando si tratta Come dicevamo prima Di infortuni Che riguardano La zona E ancora Aldair Esatto Aldair Ha preso un colpo In testa anche lui E è bene Essere estremamente Estremamente cauti Per salvaguardare Innanzitutto L'incolumità Del calciatore Entra chiaramente La barella Come da regolamento Ma secondo te Massimo Aiuta veramente Questa barella Non perdere tempo O ne fa perdere Un po' di più Ma è nato È nata come idea Per non far perdere Del tempo Probabilmente Noi la stiamo Un po' italianizzando Come idea E probabilmente In questo momento Non riesco a capire Cosa si è fatto Però Senzivamente Rivedendo le immagini Così Non sono riuscito A capire Probabilmente Sì La mano È colpita A livello Della regione Orbitale Nell'occhio Che sarebbe l'occhio Sì No Per tradurre Intanto Rimette ancora Cesari Scodella ancora il pallone E lo dà Alla Lazio Sportivamente La Roma Lascia Alla Lazio Che lo stava gestendo Lo fa ancora Con signori Si fa vedere Boxic Copre Petruzzi Poi Scarchilli Un pallone molto elegante Scarchilli Apertura di statuto Legge bene le sue intenzioni Nesta Che lo anticipa Signori La sovrapposizione di Nesta Riceve Entra in area Nesta Sinistro Pallone che ha sorvolato La mano di Cervone E per poco Rambaudi Non riesce nel tap-in Vincente Ottima iniziativa Di Nesta Che dimostra Di essere più a suo agio Sulla sinistra Di quanto non lo fosse Invece sulla fascia destra Come è logico che sia Dottronde questo è il suo ruolo È un pallonetto il suo Per servire probabilmente Proprio Rambaudi Neanche per scavalcare Cervone Bella iniziativa la sua Nel pallone Però Rambaudi Non riesce a girare Non trova l'angolo Per chiudere verso la porta Ancora Winter Rambaudi L'avanzata di Fuser Rambaudi E' un calcio di punizione E' un calcio di punizione Affidato ancora a Signori In questo calcio di punizione Barriera questa volta A distanza regolamentare No Poi avanzano Prova Signori Il solito sinistro Potente ma molto alto Signori che non è al meglio Della condizione Soffre di un fastidio Agli adduttori Della gamba Della gamba destra Sta dando l'anima però Davvero capitano Di questa Lazio Altro cambio Adesso arriva il momento Anche di Anoni Che va a rilevare Cappioli Una Roma che si copre Sempre più Con l'ingresso Di un altro difensore Puro come Anoni Potrebbe anche Preannunciare la scelta Anoni È un giocatore di grinta Di contenimento Ma Non è propriamente Un fluidificante Perché se adesso Si sta spingendo in avanti Potrebbe anche Preannunciare la scelta Della difesa a 4 Da parte Da parte della Roma Quindi cambierebbe Il suo schieramento In un 4-4-2 Quasi 35esimo Nel Secondo tempo Proteggio sempre di 0-0 Tra Roma e Lazio Fallo di Di Matteo Su Giannini Calcio di produzione In favore della Roma Invece mi smentisce Anoni Che adesso Era andato a fare Quasi la punta più avanzata Dello schieramento Dello schieramento Dello schieramento della Roma Si rialza la fatica Dolorante Giannini Schieramento 4-4-2 Che Spesso nelle interviste Soprattutto dopo La partita D'andata Di Coppa UEFA Di Neuchatel Anche Alcuni giocatori Dello Alcuni difensori Hanno indicato Come una scelta opportuna Da parte del tecnico Rapidamente Marchegiani Per Romano Centrocampista Spostato Laterale di destra Con ottimi Risposti Da parte di Zeeman Soprattutto le sorprese Di questo inizio di stagione Positive chiaramente Per la Lazio Il giocatore Proveniente dal Cesena Statuto Ultimi fuochi Di questo derby Va a chiudersi In uno spazio stretto Adesso c'è l'ammunizione Anche per Vinter Ammunizione anche per Vinter Prima ammunizione Dei Laziali Pallo non mi è sembrato Cattivissimo Seconda Non mi è sembrato Onestamente un fallo Meritevole di ammunizione Con le mani Lo stesso Tarzan Annoni Prolunga Giannini Palla nel mucchio Aspirata Balbo La insegue Scarchilli Rambaudi Lotta la Lazio Romano Fuser Uno dei migliori Se non il migliore In casa bianco celeste Fallo Da dietro Carboni Anche questo è un fallo brutto Peraltro Carboni È già stato ammonito Deve fare attenzione Cambia gioco la Lazio Dalla parte opposta Ma c'è Annoni Vinter Controlla male Ne approfitta Branca Peccato al volo Da Annoni Entrato subito bene In clima partita Adesso però Il guardalena Dice che l'ha rimesso È da affidare Alla Lazio Tarzan Annoni Si è Lanciato Nel grande calcio Con la maglia del Torino Qui ha vinto anche Una Coppa Italia Anni che adesso sta Cercando disperatamente Spazio In prima squadra Con le antenne dritte Per accogliere Un'eventuale proposta Di qualche altro club Magari a novembre Per Tenere Spazio da titolare Controlla Scarchilli Il tocco di Giannini Statuto Ha recuperato Carboni Lan Ancora Statuto C'è più spazio Sulla fascia destra D'attacco Della Roma Taglia Avanza Romano Rambaudi Tiene in campo Il pallone Uno contro uno Con Carboni Fuser in aiuto Anche Romano Di Matteo Il pallone Che non filtra Per l'intervento Di Petruzzi Ancora in avanti Signori Cercava di far Filtrar palla Poi va giù Il contatto Con Petruzzi E viene ammonito Per simulazione Questa è da rivedere Io sinceramente Ho avuto La visuale coperta Ho visto A me sembrava pallo L'impressione Del contatto C'è stato Sinceramente In questo caso Chiedo di rivederla Proprio perché No Ha simulato Pista così E simulazione Trascinato il piede Esatto Eccolo qua Cerca Cerca il fallo Cerca il contatto Cerca il contatto E si getta per terra Ha visto molto bene Cesari Soprattutto hanno visto Molto bene La nostra regia I nostri cameraman Che ci hanno offerto Una splendida immagine Statuto Scivola Scarchilli E poi riceve Spazio per lui Prova la botta C'è una deviazione Alessio Scarchilli Dalla distanza Forse non c'è nessuna deviazione Il pallone Il pallone ha toccato terra Era perfettamente Sulla traiettoria Luca Marcheggiani Aldair Ottimo il controllo Il pallone che arriva Nella zona di Marcheggiani La più maglia Non convince molto Massimo Chiesa Qui al mio piano Sembra un fantino Volevi dire Sì Oggi prezioso Anche in fase di copertura Statuto Branca Sono entrati negli ultimi Quattro minuti di gioco Il punteggio sempre di 0-0 Tra Roma e Lazio Adair Infatti da lontano Balbo Giannini Verso Balbo Marcheggiani A valanga Ecco in questo caso Balbo poteva cercar Di saltarlo Anche se dinamicamente Aveva problemi Per evitarli Impatto Però è andato A sbattere Contro Marcheggiani Qua lo rivediamo Poteva cercare di saltarlo Confermo la mia tesi Vinter Nella sua zona C'è Annoni Lo illude Annoni Si aiuta Con il braccio Calcio di punizione In favore della Lazio Poi un richiamo Per la panchina Della Roma Colloquio tra Cesari E Mazzone Molto pacato Molto cordiale Molto cordiale Mazzone Ecco in questo caso Si vede che Mazzone Accetta la personalità Di un gran parte Un uomo di sport Un uomo di sport Rispettoso Anche Carlo Mazzone Nesta Ciamotte Direi ampiamente insufficiente La prestazione di Ciamotte Due rischi più grossi La Lazio li ha corsi Proprio su due buchi Inaccettabili Da parte del centrale argentino Conferma dell'ammunizione Anche per Beppe Signori Per simulazione Cresce il numero Dei cattivi In una partita Che poi cattiva Non è stata Assolutamente cattiva Non è stata Assolutamente cattiva Ammoniti Sì diversi Però tutti Per questioni Regolamentarie Nesta Il lavoro di Signori Winter Scivolata Lo ferma Aldair Proprio dell'olandese L'ultima opportunità Proprio più di un minuto Al novantesimo Lazio Confuser Romano Fai a vedere Rambaudi Il tocco era centrale Forse verso Signori Copri Annoni E Giannini Ancora Annoni Fallo di Annoni Su Winter Vuole serrare i tempi Boxic Poi attende Che sia lo stesso Winter A parte del calcio di punizione Fuser Prima Carboni Poi Scarchilli Poggio di statuto Balbo Che dopo i Due gol in Coppa Sembra aver fatto Un passo indietro Una grande prestazione Per lui Anche se è stato abile Ad inserirsi nel primo tempo Per Lontando di sfruttare Proprio una delle indecisioni Di Chamot Lontano però Dalla condizione migliore Abel Balbo Boxic Va a pressare Lanna Che si disimpegna bene Poi Petruzzi Scarchilli Potrebbe essere L'ultima opportunità Questa per la Roma Sta per scoccare Il novantesimo Parte il cross Marchigiani Senza problemi Signori Su il lancio Puggio e Lanna Sono andati a fermare Boxic Giannini Balbo Punta verso l'area Della Lazio Branca In centro c'è Giannini Il cross Deviato La ruce di Matteo Fuser Si propone Romano Riceve Rambaudi Attaccato da statuto Fallosamente Forse c'era anche C'era anche l'ipotesi Di concedere La norma del vantaggio Si erano creati I presupposti Per la norma del vantaggio Dovantesimo Già scoccato Ma si continua Winter Avanza Larga per Nesta Al centro c'è Boxic Il cross Direttamente sul fondo Già concesso Quasi un minuto Di recupero Le camere che puntano Su Cesari In attesa Del fischio finale Di questo Derby Che di emozioni Non è che ne abbia Regalate poi tantissime Ancora inchiodato Sullo 0-0 Si prosegue A tempo ormai scaduto Balbo Scacchilli Si allunga il panore Nel controllo Poi commette fallo Sorride Cesari Arbitrato Sostanzialmente bene Direi Una partita che Psicologicamente Poteva essere difficile Poi in realtà Non lo è stata Dal punto di vista pratico Non lo è stata Non lo è stata Scusami Massimo Non lo è stata assolutamente Questa squadra D'accordo con me Uno dei più brutti derby Degli ultimi anni Penso di sì C'è il sospetto Che alla fine La Lazio potesse usare Qualcosa di più Ma guarda Le due squadre Si sono rispettate La posta in paglia Era molto alta Probabilmente la Lazio Era scottata Dalle esperienze Domenica scorsa Contro l'Udinese Però poteva Alla fine Era la squadra Che probabilmente Poteva fare qualcosa in più La Roma La Roma Ha giocato Direi un primo tempo Buono Però ecco Non ci sono state Non ci sono state azioni Che ci hanno esaltato Direi un pareggio giusto Insomma Zeman Non lo so Se sarà soddisfatto Perché è lì Che bisogna capire Se Se effettivamente Il tuo amico Mazzone Cosa dice? Ma Mazzone Certamente Sarà contento Di questo pareggio Io penso anche a Zeman Però probabilmente La Lazio Il primo tempo Non ha giocato Secondo quella Che è la sua mentalità Va bene Fulvio Ci fermiamo qui Diamo linea alla regia Prima però Flavio Tranquillo Ci ricorda Il prossimo appuntamento Di basket